Salute a voi, Messer Collin, e a tutte le genti qui oggi convenute per celebrare con magnificenza e scaudio lo dono che lo popolo tutto di Montone vuole fare allo nostro gradito ospite. Un po' film festival, un po' festival film, quello che si è svolto a Montone, in Umbria, dal 6 al 12 luglio. Nel senso che tra i paesaggi e gli scorci romantici che vediamo, oltre ad una rassegna di film, documentari, corti per bambini e all'anteprima dello sceneggiato tv della BBC, Orgoglio e Pregiudizio, si è vissuto un pomeriggio da set. Con le chiavi del nostro borgo, Messer Collin, troverà sempre una porta a testa tra le nostre possenti mura. Io, braccio forte braccio, da Montone. Occasione, la consegna delle chiavi della cittadina medievale, che fu di braccio forte braccio da Montone, all'attore inglese Collin Furr. Grazie, questa è veramente forse la notte più grande della mia vita. Non è solo una cosa della mia industria, un premio per un lavoro particolare, è un'invitazione, un segno di accettazione di una comunità personale, e quindi sono molto emozionato per questo. Non vivo qui proprio, ma passo molto tempo qui perché mi sono sposato con l'italiana. E qui c'è tutto, c'è la cucina, c'è l'arte, c'è la lingua, è un paese, un paese, un paese molto, molto completo. Faccio un film di Muccino, di Salvatore, di Ospidec, ci sono altri, forse non così giovani, a meglio, a scuola. L'Italia è piena di registri molto interessanti che non sono visti abbastanza in estero. L'Italia è piena di registri . Grazie a tutti.